Io ancora c'ho le monette del 61 dell'Unità Tentale. Io conservo anche il quaderno che mi detterò all'elementare. Nel 61 ci fu veramente un momento di straordinaria unità, perché in quel momento questo paese disse che avevamo costruito insieme il nostro avvenire. Allora quando un paese sogna è un paese unito, perché i sogni sono sempre cose collettive e sono gli incubi che sono cose private, che non si raccontano, di cui si ha paura. Questo è un periodo di incubi e proprio perché si sono gli incubi poi ognuno tende a separarsi. Io trovo, anche se col centocinquantenario c'è stato un sentimento profondo del paese, che è stato anche addirittura sottovalutato da alcune forze politiche, perché poi alla fine questo paese vuole essere unito e vuole soprattutto avere grandi imprese in cui ritrovarsi. Veda, lei mi deve consentire alcune questioni di natura personale. Il suo libro mi è sembrata la storia della mia vita. Io sono un po' vecchiotto, per cui tutti gli avvenimenti che lei descrive io li ho vissuti in prima persona. Lei fa alcuni flash nel libro, che sono la cosa più bella poi del libro. Lei parla di Budapest, i cararmati sovietici che invadono Budapest. Io l'ho vissuto da vicesindaco, ho preso i ragazzi delle scuole medie, siamo andati al monumento dei caduti per onorare i caduti di Budapest. I comunisti mi hanno detto che ero un mascalzone, io facevo parte di un'amministrazione socialcomunista. Qualcuno che allora ha inneggiato alla morte di Imbrinoji poi è andato a portare una corona di fiori, ma con 50 anni di ritardo. Arrivano sempre in ritardo i comunisti in Italia. Lei parla delle Olimpiadi, Berruti, io ero a Roma, non ne a vedere Berruti ma a vedere la scherma. Parla di Giovanni XXIII, flash, io non sono credente, ma lui, sposino, sono andato lì e mi ha benedetto. Questo Papa mi è piaciuto moltissimo, questo contadino, che poi non era contadino, uno che ha fatto il diplomatico, le idealità. Quindi tutte queste cose hanno ricostruito la mia vita. Lei è cosa? So che anche altri gli hanno fatto questa osservazione. Guardi, io trovo questo, quando parlo del libro, veramente è come se la gente andasse a prendere dalla propria mente lo scatolo delle memorie, ci buttasse via la polvere e lo trovasse vivo così com'è. Perché, continuo a dire, questo è un periodo del paese straordinario. È un paese dove tutte queste imprese sono patrimonio collettivo. Io faccio un capitolo a cui sono molto affezionato nel libro. Questo libro è scritto, ogni capitolo ha un luogo, è come se fosse un libro di guerra. C'è un solo capitolo che non ha un luogo. Si chiama 31 dicembre del 59, Italia. E prendo tutti i personaggi in tutta l'Italia, così come erano collocati nella storia. Dove ognuno ha un sogno, ognuno lo vuole raggiungere e ognuno si batte per questo. E questo è il paese. Allora, continuo a dire la domanda che io continuo a farmi. Perché questo paese non è stato mai raccontato? Perché non abbiamo raccontato anche il nostro epos? Ce ne sono, guardi, io sto lavorando un po' su questo, ce ne sono tante di queste storie. Bene, è una materia che gli scrittori, i giornalisti, quelli che scrivono in generale, non so come definiti i libri giornalisti, non sono un giornalista, gliel'ho già detto. È un periodo come se fosse stato messo tra parentesi e è cancellato. Perché? Veramente ve lo domando. Su questo approfondiamo. Vedrà i tempi della trasmissione. Lei dice che non è giornalista, ma è direttore della RAI di Napoli, quindi io lo considero giornalista. Io voglio dire ai nostri telespettatori, guardate, noi non possiamo entrare nel libro. Chi vuole entrare nel libro lo compra. Francesco Pinto, la strada dritta, Mondatori, purtroppo Mondatori, troverà Cova, troverà De Amicis, Castellucci, Elmoni, Nigro, Giovanni. Sono eroi, eroi del nostro tempo, che hanno creato il benessere dove noi abbiamo guazzato. Mio figlio, che è dentista, mi dice che ora paga le tasse per i miei divertimenti. E c'è l'operaio Gaetano De Angelis, la cui storia è bellissima, assieme a quella di Giovanni Nigro e della sua Bruna. Guardate, a prescindere della storia, della strada che è una storia epica, troverete questi sprazzi di umanità, troverete l'uomo, il cuore dell'uomo. Quindi ognuno che vuole leggere il libro se lo legga. Noi vogliamo fare con Francesco Pinto un'altra discussione. Vogliamo riprendere il discorso che avevamo fatto con Di Stefano. Io le ripeto che sono arrabbiato con Gaetano Savatteri e anche con la giuria. Perché è presa la giuria, non lo so, dalle mode evidentemente. E dall'anno scorso ad oggi sono i finalisti, ci sono stati cinque giornalisti, meno la Simonetta Agnello l'anno scorso, miauone, ma che non ha vinto. Ora lei, parlando a Grotte, ha detto che la cultura italiana non ha fatto più nessun dovere. E c'è un'invasione dei giornalisti nel mondo della cultura per raccontare la storia. Io credo che non è tanto un problema dell'invasione dei giornalisti, i quali sono molto d'accordo con quello che diceva Paolo Di Stefano. Il problema vero è lo stile che si sceglie, è là che si costruisce la letteratura. E ci sono anche straordinari giornalisti che hanno fatto, le ha citati prima Paolo. Il problema è quello che dice lei, io credo che il problema non sia giornalista sì, giornalista no. Credo che il problema di questi anni sia che la letteratura non ha fatto il suo dovere. Allora il dovere della letteratura è di raccontare anche la storia di un paese. Questo è un dovere, perché poi si dimentica che anche la letteratura dovrebbe avere dei valori etici. Queste sono parole che sono quasi scomparse. Questa letteratura italiana a un certo punto ha, secondo me, raccontato tanta realtà, ma ha rinunciato a raccontare al paese. Penso che sia un clamoroso errore che peraltro sta portando la letteratura italiana ai margini del dibattito. Allora mi scusi, mi accusano che nell'incontro con i letterati parlo più io che non faccio parlare. Però siccome i libri io li leggo, voglio arrivare a una conclusione. C'è uno spartiacque con l'89, la morte di Ciacia, muore uno scrittore con l'impegno civile. Si crea un vuoto. Assolutamente. E allora, ciechi, i vuoti nella letteratura come nel diritto non esistono. Si, assolutamente, ma invece quel vuoto in Italia non viene più coperto, secondo me. Nell'89 cadono i grandi muri, cadono anche le grandi ideologie, ma cade anche, come dire, l'impegno civile della letteratura. Io penso che sia un problema vero questo, perché in un paese servono gli intellettuali, serve la scrittura e serve la narrazione. Un paese che tutto questo non lo ha fatto è un paese che, come dire, ha un problema, ha un buco. Allora, la letteratura in questo momento si è veramente messa come da parte, come si avesse rinunciato a un suo ruolo. Insomma, questo è un paese dove non si raccontano i miti di fondazione. La Resistenza, che è l'altro mito di fondazione, ha avuto una grande letteratura civile. Questa Italia non ha una letteratura civile, perché? Che cosa raccontiamo alle nuove generazioni? Poi diciamo che le generazioni non leggono i libri, ma perché dovrebbero leggerli? Lo dico con grande franchezza. Che cosa gli stiamo raccontando del paese? Quali sono le cose? Allora, io lavoro in televisione e non credo mai che sia colpa del pubblico. Credo che sia sempre colpa degli autori, se poi non si incrociano le cose. Questo paese ha una letteratura che ha rinunciato al suo impegno civile. Quindi lei e di Stefano mi state convincendo che intanto non bisogna fare discensione tra scrittore e giornalista e quasi quasi mi riportate a una mia concezione gramsciana della cultura. La cultura deve incidere nel sociale, deve cercare di cambiare la realtà in cui viviamo, raccontarla e cercare di cambiarla. Professore, io credo che noi in questi ultimi vent'anni siamo stati anche in piedi o abbiamo danzato intorno a un grande inganno. Tutto quello che le dice la concezione gramsciana sembravano realitti del passato, ma perché? Io credo che invece una concezione gramsciana della letteratura sia una straordinaria concezione. Abbiamo perso le parole. Si sa che a scuola non studiano gramsci. Per me il più grande libro del Novecento, il più grande monumento sono le lettere del carcere. I gramsci comunisti non mi interessano. Certo, sono molto d'accordo. Però perché dobbiamo rinunciare a questo? Peraltro noi siamo un paese di una modernità finta. Questo è un paese di una modernità finta. Io faccio un esempio molto semplice. Noi per esempio per raccontare queste cose diciamo un'opera di fiction, un prodotto di fiction. Voi sapete che la parola fiction in inglese non esiste? Cioè se voi andate in Inghilterra e dite io lavoro nel campo della fiction, ho fatto una fiction, ti dicono che questo qua lavora nei programmi per ragazzi. Perché non esiste proprio la parola. Allora noi siamo un paese di finta modernità. Preferirei essere un paese un po' meno moderno, ma con più forza e con più schiena dritta. Bene, ai nostri telespettatori noi diciamo che abbiamo portato avanti dei discorsi letterari un po' molto importanti per parlare di queste cose con la calura dei 35 gradi che ci sono per ora in Sicilia è molto difficile. Noi manderemo questa trasmissione in onda a settembre con più fresco. Spero che la gente, i giovani, gli intellettuali vorranno ricepire queste nostre discussioni. Io ringrazio Francesco Pinto. Raccomando ai telespettatori il suo libro La strada dritta, edito da Mondatori. Lascio che chiuda lei la trasmissione. Dottor Pinto, lei agli agrigentini, ai nostri telespettatori, questa televisione viene vista a Caltanissetta, Palermo. Poi noi la mandiamo in onda, in internet, in televideoagrigento.net Quindi chiunque la può vedere, le mie nipote se la vedono in Canada. Un messaggio lei che vuole lanciare. Ma il messaggio è quello che dico a tutti e quello che dico a me stesso. Non smettete mai di sognare. Non smettete mai, mai, mai. Perché con i sogni si costruiscono le imprese personali e le grandi imprese. C'è una sola, ci sono solo alcune persone che non sognano. Quelli sono i morti. Non possiamo essere morti, né personalmente né come nazione. Quindi non smettete mai di sognare. Grazie, con l'invito a sognare, salutiamo.